Ciao, allora voglio parlarvi di prodotti che davvero hanno cambiato la mia pelle ovviamente è una mia opinione personale perché sono prodotti che io ho usato sulla mia pelle e ovviamente non vi dico che dovete comprarli ma ve li mostro e ve ne parlo poi ovviamente uno è libero di fare quel che può e fare quel che vuole io ho una pelle comunque agé con delle discromie e ho scoperto che la mia pelle è mista io ho sempre pensato di avere una pelle molto secca ma in realtà con alcuni prodotti che ho usato ho scoperto di avere la pelle mista cioè nella zona T di avere la lucidità e un pochetto il poro dilatato intanto devo cercare una cosa che ho dimenticato di tirar fuori eccola qua, ho il mio cassetto allora, prodotto top, top, conosciuto e ve ne ho già parlato ma ve ne riparlo perché è miracoloso secondo me è il detergente viso di Emardi che è alla moringa questo detergente io lo finirò e lo ricomprerò sicuramente dura tanto, viene prelevato con la sua spatolina è un burro olio scioglie l'acqua dunque ma la meraviglia è quando lo levate col suo panno che la pelle è luminosa, schiarita, idratata io veramente prendete la mini taglia e poi mi dite perché veramente vi innamorate di questo prodotto come mi sono innamorata io so perché ho letto che alcune persone non amano il profumo a me piace più che altro lo supero perché vedo un risultato proprio continuando a usarlo vedo un risultato sulla mia pelle cosa che magari i prodotti chimici non mi hanno dato questo è il Moringa Light Cleansing Gel io volevo fare la combo doppia detersione pensavo che fosse in schiuma in realtà questo costa un pochino meno dell'altro e ha la stessa funzione dell'altro cioè è un gel oleoso meno oleoso di quell'altro che poi a contatto con l'acqua diventa un latte biancastro e porta via l'acqua dunque anche lui comunque io li uso in combo lo stesso e poi questo magari lo uso al mattino e ha lo stesso potere idratante illuminante rimpolpante sono meravigliosi questi prodotti e ovviamente c'ho anche il tonico allora questi prodotti si trovano su look fantastic e sono quasi sempre scontati del 20% però ad esempio il tonico look fantastic non lo aveva quindi sono andata su notino e l'ho trovato su notino quindi non so dirvi se può costare meno da una parte o dall'altra non l'ho pagato poco non l'ho pagato tanto non sono prodotti paragonabili ai costi di Sensai o di Estée Lauder però neanche ai prodotti di L'Oreal ecco questo è l'esfoliating brightening tonic allora questo svolge un'azione esfoliante ma non sentite assolutamente niente sulla pelle perché la vostra pelle rimane morbida, idratata non irrita, non tira ed è illuminata anche lui in combo con tutti questi prodotti il viso trova la luce quella luce che chi ha la pelle con discromie una pelle agere perde con gli anni cioè si perdono queste cose qua insieme a tante altre vabbè lasciamo perdere ovviamente è che mi potevo far mancare la maschera viso allora io questa però non mi ricordo se l'ho presa su Look Fantastic o su Notino perché io compro un po' da una parte e un po' dall'altra su Look Fantastic io lo devo dire ultimamente ultimamente perché non compro tutto assieme mi sono accorta che mi arriva il pacco dopo due settimane se va bene 3 se va male cioè ci vuole tanto tanto tempo perché mi arrivi la roba sì lo so è un sito dove scontano tante cose dove hanno tanti ordini è enorme però a me piacerebbe non dico eh averlo dopo due giorni perché solo Neos e Notino mi arrivano dopo due giorni anche un giorno però 4-5 io mi ricordo avevo fatto l'ordine da Charlotte Tilbury in Inghilterra sempre prima 4 giorni mi era arrivato vabbè comunque parliamo di questo è un momento così magari poi le cose cambiano questa è Moringa Renewell Treatment Mask Instant Radiance allora questa io la faccio due volte alla settimana si può anche fare come trattamento notturno e io l'ho fatto una volta perché a parte che idrata illumina rimpolpa fa tutto quello che fa il resto che vi ho fatto vedere è meravigliosa sto usando questi prodotti proprio costantemente ho dimenticato di farvi vedere perché Laura mi aveva mandato anche il primer che dà un effetto smooth offuscato bellissimo prodotto anche quello non l'ho portato scusate mi sono dimenticata comunque fatto così più piccolo bellissimo prodotto anche questo stessa profumazione mi piacciono tantissimo insomma poi sempre come trattamento quello che consiglio perché io l'avevo visto l'aveva consigliato Giulia Cova e veramente la maschera Tensore Remodelant di Heisenberg ve ne ho già parlato ve ne parla lei in maniera più professionale meravigliosa cioè usata come dice la casa cioè 15 giorni 10 giorni 5 minuti tutti i giorni adesso non mi ricordo io l'avevo tenuta un quarto d'ora tutti i giorni perché esagero sempre io ora la tengo anche mezz'ora sul viso ma è un'antietà meraviglioso meraviglioso luminosità rimpolta le solite cose insomma invece un prodotto che mi ha mandato Silvia di Neos in uno dei pacchi che avevo fatto è questa meraviglia del dottor Sebag è Rose de V Serum allora io pensavo di non andare d'accordo con la rosa avevo provato Sisley e By Terry per quanto riguarda proprio la skin care e non mi ero trovata bene ma questo si ero cioè questo si ero ne vogliamo parlare allora mi ha fatto questo regalo meraviglioso ce n'è 5 ml dentro se leggo bene però è un prodottino un olio che ne bastano tre gocce allora io questo oglietto qua lo sto usando alla sera e spruzzo nella mano un po' di questo tonico per avere la pelle umida e poi tre goccine le vado a tamponare insieme al tonico perché è un olio quindi l'olio viene assorbito dalla pelle se la pelle è bagnata è meraviglioso come dice Silvia un salva pelle può essere usato su una pelle irritata dal sole irritata da qualsiasi cosa ad esempio io che uso la mascherina mi viene un'irritazione qua dai lati proprio dove ho le rughe nasogenine che ci lotto da una vita mi sento molto più secca in queste zone qua con questo qui mi sta passando tutta l'irritazione qua dai lati meraviglioso io questo qui ci faccio un pensierino lo trovate su Neos e ci addiziono sempre alla sera questo campioncino che mi aveva mandato Sephora di Belif The True Cream quella Mysterize Bomb è una crema idratante meravigliosa che idrata tantissimo quindi qua abbiamo un'azione anti-età e riparatrice e qui abbiamo un'idratazione vi giuro che al mattino la pelle vive di rendita poi un'altra cosa che volevo farvi vedere che ho scoperto due fondotinta meravigliosi uno è il famosissimo Lancome Tinti Dual Ultra Wear Beige qua io ho beige di Afan però per me è un pochettino scuro però anche oggi lo sono riuscita a metterlo perché comunque un po' di colore poco a poco anche se metto la protezione l'ho preso è bellissimo 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 e l'altro è la famosa CC cream di It Cosmetics allora io mi trucco solo nel weekend perché lavorando con la mascherina lo sapete non mi trucco il viso ma mi trucco solo gli occhi allora questo prodotto qua bisogna imparare ad usarlo perché io ne do poco ma veramente poco e soprattutto nelle giornate asciutte la mia pelle cioè è un primer questo cioè migliora la pelle in un modo incredibile e in più ha un'azione anti-età è quello che me ne ha fatto proprio più innamorare l'idea di avere anche un fondotinta trattante sulla pelle non ho provato altro di It Cosmetics ma mi arriverà mi arriverà una cosa interessante che poi vi farò vedere dopo averla provata perché è il libro di It dove c'è tutto allora questa è bellissima però non bisogna esagerare perché io la prima volta mi ho data troppa e oltre a farmi proprio un viso troppo truccato mi ha creato dei pori un po' grossi non so se forse la formulazione matte andrebbe un meglio per me ma questa è meravigliosa mi piace tantissimo un altro prodotto che mi ha fatto conoscere allora io sto lottando con gli strucanti occhi perché non ne riesco a trovare uno che mi ha contenti nella grande distribuzione allora ho chiesto a Laura Laura mi dici cosa usi te come ti trovi e lei mi ha detto prendi questo mi ha mandato la foto e io l'ho preso e mi piace tanto devo dire che questo mi piace tanto l'ho provato qualche volta poi mi sono fermata perché voglio finire quello che ho da parte però questo mi piace tanto ovviamente mi dà una sgrossata e poi il più lo toglie lui perché lui va anche e Mardi il burro va anche sugli occhi cioè però da almeno davvero una sgrossata prima di andare con lui spero che questo video vi sia piaciuto io vi mando un grosso grosso bacio e vi auguro una buona vita ciao